Buonasera. Scusi, siamo chiusi. Mi hanno pestato qui davanti due giorni fa. Cercavo mio figlio. Sei stato picchiato in questo locale? Ascoltami. Mio figlio si chiama Piotr Kania. Questo dov'era? L'ho trovato lei. Sì, dietro la serranda, mentre apriva. Avevi paura, Piotr? Quella sera volevi vedermi perché avevi bisogno di aiuto. Ho fatto qualcosa di terribile, papà. Non hai idea di che razza di persone sono. Papà, non sai di cosa sono capaci queste persone?